C'era un giorno in cui si sapeva che guardare in avanti voleva dire in realtà che si tentava di vedere indietro. Ma da quel giorno appare sempre più difficile intuirlo senza un muro di nanzi. Il muro non c'è più, ma solleva il problema della sua stessa natura. Della natura stessa del guardare, del suo stare. Non diceva nulla, nulla, ma non mi ricordo il suo viso. È stato il viso dell'angelo che ci salvò. Grazie a tutti. Grazie a tutti.